In un convegno universitario in Campania, Aurelio De Laurentiis è intervenuto con delle dichiarazioni che hanno fatto molto discutere e a 360 gradi. Ha parlato di Scudetto, di Champions, di Festa Scudetto, di Osimen, del fatto che se il Bari arriva in Serie A lui sceglie di vendere il Bari, ha parlato anche di Zhang, ma la cosa che forse ha suscitato più dibattito, almeno tra i tifosi, è stata la sua esternazione, la sua riflessione sul valore di alcune squadre di Serie A, sui conti in rosso, sull'importanza anche commerciale, sul valore commerciale e quindi su una modifica forse alle regole del gioco che lui vuole proporre. O meglio, una riflessione che vuole porre relativamente alle regole del gioco e quindi all'accesso alla Serie A, quando ha detto che se ci sono delle squadre che non suscitano adeguato interesse commerciale, perché le loro partite vengono viste da un paio di migliaia di persone, da duemila persone, allora bisogna evidentemente porre uno sbarramento perché bisogna essere democratici ma con dei limiti. Non dovrebbe essere consentito a squadre che non hanno abbastanza valore commerciale e che non suscitano abbastanza interesse nella tifoseria di accedere e partecipare alla Serie A. Ripeto, la cosa ha suscitato molto dibattito sui social, ci sono state molte opinioni negative, contrarie a questa riflessione di De Laurentiis, che ricalca un po' le argomentazioni di Agnelli sulla Superlega, anche prima del famoso colpo di Stato mancato, il famoso golpe non riuscito di aprile 2021. Anche Agnelli in passato, ma relativamente alle competizioni europee, aveva parlato di squadre che valgono di più e squadre che valgono di meno come blasone, come storia e che di conseguenza dovrebbero avere meriti maggiori e meriti minori in base a requisiti e coefficienti. De Laurentiis non è mai stato a favore della Superlega, anzi ha dichiarato al report di avere usato Agnelli che voleva fare la Superlega per portare avanti la propria battaglia contro i fondi stranieri che vogliono entrare nel gioco dei diritti TV della Serie A con una media company, se ne sta parlando di nuovo e De Laurentiis anche in questa occasione si è scagliato contro questa ipotesi e contemporaneamente ha proposto una sua Superlega, di cui vi ho parlato in un video precedente su questo canale, che è diversa da quella che vuole fare Agnelli, ma comunque non è neanche quello che sta proponendo la UEFA con la Champions League. Quindi sorprende un po' questa posizione di De Laurentiis, ma non troppo perché ha sempre espresso il suo pensiero in contrasto con lo status quo, solo che questa volta forse ha esagerato nell'essere restrittivo per l'accesso alle competizioni. Cioè cosa vuole fare una competizione elitaria? Trasformare la Serie A in un torneo con meno squadre ma più forti? La Premier League, che è la vera Superlega e forse anche la vera Champions League, ha 20 squadre e anche la Championship con altrettante squadre è un campionato, una competizione di assoluto interesse, superiore per certi versi addirittura alla Serie A, se guardiamo per esempio ai diritti TV e ai soldi che girano. Quindi il numero di squadre o il valore delle squadre selezionato poi in base a cosa non si sa, non è forse lo sbarramento necessario per alzare la qualità. Ed anzi, mi viene da dire, dopo aver guardato Roma-Juventus, con la Roma e la Juventus che sono tra le squadre che hanno investito più soldi, che costano di più e che hanno anche più blasone a livello italiano e quindi anche come storia europea, direi che non è proprio la sfida, non sono proprio le partite tra le grandi squadre quelle che attirano più interesse. E il fatto che magari Roma-Juventus possa avere avuto il maggior riscontro di pubblico rispetto a partite tra squadre, diciamo, minori, in realtà è proprio una distorsione che andrebbe combattuta. Non bisogna appiattirsi al fatto che i tifosi vogliono, si presume, guardare partite tra grandi squadre perché se queste grandi squadre non si dimostrano tali nel momento in cui giocano un pessimo calcio allora bisognerebbe rieducare i tifosi a guardare l'ottimo calcio delle piccole squadre. Cioè, chi stabilisce che il valore di un campionato sia dato dai grandi nomi se questi grandi nomi vengono poi traditi e disattesi sul campo? Se c'è più calcio, più passione, più intrattenimento, più entusiasmo in una partita, che ne so, tra Sassuolo e Bologna perché negare questo fatto solo perché magari il Sassuolo e Bologna fanno fatica a portare avanti la loro azienda calcistica relativamente ai conti privilegiando chi ha tanti soldi ma tra l'altro da anni spesso li spende male. Secondo me è proprio un'inversione del ragionamento, della base di ragionamento. Bisognerebbe rimettere al centro la qualità del calcio non solo la qualità del nome del blasone e dei conti. Detto che anche le grandi squadre, soprattutto le grandi squadre in particolare in Italia hanno avuto e danno i conti in rosso altro che le piccole che attraggono poco pubblico. Opinioni, posizioni, anche politiche, tanti interessi economici in ballo c'è da discutere ma non credo che si stia lavorando veramente per migliorare il prodotto calcio serie A per usare un eufemismo. Grazie. 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 Grazie.